Bentornati e rimaniamo ancora sul tema del caro energia dal sito Verona Economia abbiamo pubblicato qualche giorno fa, un paio di giorni fa, questo comunicato che arriva da FIGISC Confcommercio Verona che dice a rischio il 30% dei distributori di carburante veronesi. L'associazione Scaligia era presieduta da Stefano De Beni afferma che a causa del rincaro delle bollette dei carburanti e di una sorta di lockdown non dichiarato 90 impianti sarebbero addirittura a rischio chiusura e allora l'abbiamo invitato e qui in collegamento con noi diamo il benvenuto a Stefano De Beni. Benvenuto Presidente. Buonasera a tutti. Allora è un messaggio forte quello che avete lanciato, insomma addirittura 90 impianti sarebbero a rischio chiusura, come mai? Guardi è un messaggio molto forte ma secondo me non si discosterà molto dalla realtà, non è possibile un aumento dell'energia di questo paragone. Lei pensi solo che un impianto di carburante medio spendeva nel 2020 all'incirca 2.000-2.500 euro di energia al mese, adesso si ritrova una bolletta di 5.000 euro, praticamente il doppio. Quindi a livello gestione è improponibile e insostenibile. Anche perché contrariamente a quello che l'utente medio può pensare i margini che saltano fuori dal vostro lavoro sono tutt'altro che abbondanti, giusto? Giustissimo, guardi io faccio un esempio chiarissimo, lei prenda un litro di benzina, facciamo una media di 1,80 euro, 1,75 euro, prende 175 monetine da un centesimo, le mette in fila, il margine lordo del gestore ne prende 3 di quelle monetine lì, quindi a lei lascio il commento. Non pensavamo davvero così poco, sinceramente, quindi ha fatto un esempio molto calzante. Ovviamente questi rincari stanno mettendo in difficoltà i gestori come lei, chiaramente, ma rischia di fermarsi intere filiere, a partire dalla logistica. Insomma è un problema sottovalutato forse fino a questo momento dai non addetti ai lavori. Ma direi che è sottovalutato sì, lei pensi che l'85% del trasporto del carburante avviene tramite gomma, quindi da noi l'è improponibile qualche altra scorciatoia. Pensi poi noi sfruttiamo l'energia 24 ore al giorno, teniamo gli impianti accesi anche di notte, di fatti c'è una provocazione in corso, spegneremo gli impianti. E lo fate anche per una questione di sicurezza, chiaramente. Certamente, di sera, di notte, un impianto illuminato è più sicuro di un impianto al buio. A tutto ciò si aggiunge anche il prezzo del carburante che non... Ricordiamoci che sfiora 1,80 euro sulla benzina, 1,70 euro sul gasolio, quindi i cali sono perennemente in discesa. Poi avete parlato, tra l'altro, arriviamo dopo su questo punto, avete notato anche una diminuzione del prodotto erogato in questi giorni, in queste settimane, prime settimane del 2021? Direi di sì, intorno al 15-20%. Anche perché... Tramastico o sì. Prego, prego. Così. No, 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 volevo dire, è pura e semplice realtà. Anche perché, sempre in questa nota che avete mandato, voi parlate, e mi piacerebbe capire cosa intendete, che stiamo vivendo una sorta di lockdown non dichiarato. Ecco, interessante anche questa definizione. Come descrive questa espressione? Ma è un lockdown non dichiarato perché noi facciamo parte della filiera e quindi anche il benzinaio, purtroppo, usa energia, usa tutto quello che deve per lavorare, ma non ha un margine di miglioramento. Quindi i costi si raddoppiano, ma il guadagno è sempre quello. Insomma, immagino che siano momenti davvero critici anche per il vostro settore. Addirittura, citando la vostra nota, secondo il Codacons, solo per i maggiori costi di rifornimento una famiglia spenderà in media 340 euro annui in più di auto a benzina e 328 euro per il gasolio. Insomma, importi che poi vengono sottratti magari per altre spese, quindi è un cane che si mangia la coda, no? Esatto. La filiera torna sempre al distributore di benzina, alla fine. Per non parlare neanche dell'aumento del GPL del metano, vero? Il metano supera i 2 euro addirittura, dai, è inarrivabile. Anche perché molte famiglie avevano fatto proprio la scelta anche un po' etica, no? Di scegliere la macchina metano per risparmiare, per inquinare meno. E adesso si ritrovano un aumento impressionante. Esatto, confermo. È così. Senta, Figi... Mi dispiace, ma è così. È vero, non ci sono molte altre parole da aggiungere. No, ma assolutamente, assolutamente. C'è entrato in pieno. Senta, Figi Commercio scriverà anche il Ministero dello Sviluppo Economico, la transizione ecologica. Insomma, siete sempre, anche con i vostri apparati nazionali, chiaramente a contatto con i ministeri. Esatto, siamo sempre a contatto con i ministeri, siamo sul pezzo. E non ultimo... Non mi ricordo cosa volevo dire. No, no, anche con il vostro leader nazionale, Luca Square, insomma, siete in contatto con i vari uffici ministeriali, anche perché se si bloccano i distributori di benzina, poi si blocca il paese, non c'è tanto da scherzare. Si blocca il paese, esatto. E tra l'altro non siamo neanche nei famosi ristori che dovrebbero arrivare, ma speriamo di entrarci. La vedo dura, la vedo durissima. Speriamo, dai. Non molti sanno che a Verona ci sono circa 300 distributori, insomma, un bel numero considerevole. Sì, da Verona provincia fa 300 distributori circa, una novantina solo a Verona. Solo a Verona. Insomma, numeri interessanti. Da quant'è lei che ha in gestione un impianto? 1984. Addirittura. Insomma, sono presto 40 anni. Abbiamo visto di carburante passare. Assolutamente. Dai, ci permettiamo di fare un sorriso perché altrimenti, purtroppo, guardando solo i numeri, ci sarebbe da piangere. Il Presidente De Beni, insomma, è stato prezioso il suo contributo, anche ci ha dato dei riferimenti numerici interessanti e speriamo che la situazione, chiaramente, possa migliorare perché, come dicevamo, dal vostro lavoro passa anche parte dello sviluppo del Paese, quindi non ci si può fermare. Certo, certo. Grazie per essere stato con noi. Niente, buona serata. Grazie. Salve. Grazie. E noi adesso lasciamo spazio alla rassegna stampa e poi ci vediamo più tardi. Bentornati ad un nuovo appuntamento con il Verona Economia. Vediamo insieme le notizie del giorno e apriamo la rassegna stampa di oggi con la chiusura a divertenza dell'appalto Blue City. I lavoratori avranno gli arretrati. Dopo lo sciopero dei lavoratori della catena del freddo, sindacato e azienda hanno finalmente raggiunto un accordo. Verranno corrisposti gli stipendi arretrati ai lavoratori. Vertenze di questo tipo sono ancora molto frequenti, ha dichiarato Fasoli, segretario Filt CGL. Come sindacato sosteniamo i lavoratori per ottenere il giusto riconoscimento economico. Andiamo avanti con cittadinanza attiva nelle scuole. La rete veronese conta 60 istituti. La rete di cittadinanza, costituzione e legalità a oggi riunisce 60 istituti scolastici sparsi nella provincia veronese. In questi primi mesi del nuovo anno si stanno mettendo a punto progetti e attività basate sul coinvolgimento attivo degli studenti. Andiamo avanti con il circolo Nazione Futura che apre una sede a Verona. L'associazione Nazione Futura apre quindi un circolo anche nella città scaligera. Motore dell'attività del circolo è guidato da Pierfrancesco Bettini e un gruppo di giovani e professionisti accomunati dalla volontà di fornire un contributo a livello cittadino e anche nazionale. Proseguiamo con il ristorante più solidale del Veneto. Arrivano i complimenti anche del presidente Zaia. Dal cucinare per i VIP a preparare pasti caldi per la mensa dell'asilo. Questo è il grande gesto di umanità della batteria di cucina del ristorante da Aurelio nel Belunese. Anziché impegnarsi con la clientela abituale è al lavoro nella mensa della scuola dell'infanzia per assicurare passi caldi ai bambini in assenza degli inservienti a casa con il Covid. In chiusura con il turismo invernale che fatica a ripartire. Percentuali ancora in calo. Le previsioni erano buone ma la risalita dei contagi ha messo in stand-by l'inizio della stagione del turismo invernale. Allarmanti i numeri dello scorso anno. Il 2021 si è chiuso con 148 milioni meno di presenze turistiche con un calo quindi di oltre il 40%. In chiusura ricordo ai nostri teleradiospettatori l'uscita del settimanale Verone Economia previsto per la giornata di domani. Tante news e interviste con un focus dedicato alla scuola. Per oggi è tutto. Grazie per essere stati con noi. Linea allo studio. Grazie a tutti. 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 Grazie.